Allora, io e Corrado Sestito abbiamo deciso di andare al funerale di Muhammad Ali perché abbiamo avuto la fortuna sette anni fa di incontrarlo di persona e di vivere una giornata insieme a lui ed è stato fantastico e ci ha insegnato veramente molto. In tre ore che siamo stati con lui abbiamo imparato tantissimo sotto l'aspetto umano, ci ha insegnato l'umiltà che aveva questo grande campione anche se lui faceva lo spandigone e quando era lì invece aveva un'umiltà fuori dal comune. Andremo perché ci sentiamo di andare al funerale appunto per quello che è stato per noi e per quello che ci ha insegnato in quel giorno che siamo stati con lui. Ho letto che nel funerale ci sarà un corteo, Don Bill Clinton farà lui il funerale insieme a Billy Crystal, il sindaco di Louisville, faranno un corteo che andrà dal Muhammad Ali Center fino al cimitero dove verrà sepolto. Questo venerdì pomeriggio, mentre giovedì lo faranno, che è in forma pubblica, mentre giovedì lo fanno in forma privata. Per noi è uno sbattimento andare perché partiamo mercoledì sera, siamo lì giovedì sera e poi ripartiamo sabato e domenica siamo qua. Però per Muhammad Ali si fa questo e altro, questo è il mio pensiero. Muhammad Ali l'abbiamo incontrato nel 2009, era giugno del 2009, il 24 esattamente. Te lo ricordo molto bene per la giornata e perché il giorno dopo morì Michael Jackson. Infatti eravamo ancora in America e abbiamo letto la notizia della morte di Michael Jackson e abbiamo collegato le cose. Guarda te che è il caso. L'abbiamo incontrato nella sua tenuta di Bering Springs, che è nel Michigan, e sono stati loro, sono stati fantastici. Infatti hanno veramente espresso quello che io immaginavo. Siccome io ho letto tantissimo di Ali, sapevo che se lui c'era ci avrebbe incontrato, perché ha sempre detto che i fans sono la sua anima. Se non era per i fans lui non diventava così grande. E poi aveva un'esperienza personale che ebbe quando venne a combattere a Roma nel 60, che voleva incontrare il suo idolo Sugar Ray Robinson, che è stato quattro ore sotto l'ottera a aspettarlo. e quando è uscito Robinson, lui gli ha spiegato chi era, Robinson gli ha detto ah non mi interessa chi sei e se n'è andato non gli ha autografato, non gli ha fatto l'autografo. E lui ha detto che se diventava famoso un giorno non voleva far provare questa emozione negativa a nessuno. Quindi andava in giro con dei bigliatti già autografati, se non riusciva a fermarsi e a autografare chi voleva. e gli dava, piuttosto di far provare quella brutta emozione alla gente che gli chiedeva l'autografo. Sulla base di questo noi abbiamo deciso di andare là perché abbiamo detto se c'è, se la ragiona così, sicuramente ci incontra. Però magari era solo scritto o nella realtà non era così. Invece io oggi sono orgoglioso di essere testimone di questa cosa, che i suoi pensieri erano quelli che li ha sempre mantenuti fino a in fondo.